Adesso con la riga andremo ad allargare l'altra branca. Ecco qua, come potete vedere, questa binda è molto stretta e questa è molto larga. Come vedete anche da questa parte, la base d'appoggio è molto più stretta e qui molto più larga. Qui sprofonda e qui galleggia. E per allentare la tensione sul legamento collaterale e mediale. Ok, anche questo ferro, adesso andiamo a fare la rifinitura dei talloni con la mola.